partire con le iniziative per cui insomma Gabriele in attesa poi di presentarvi la prossima applicazione se riesce a darci un po' una rappresentazione di ciò che significa stanza del cittadino e di quello che questo rappresenta all'interno di servizi e consorzio. Allora questa diciamo velocemente poi vi chiedo un attimo di pazienza per l'autenticazione ma è come si presenta una stanza per adesso pubblica della parte che il comune di Treville da cui siamo partiti un po' di tempo fa in termini di analisi dei bisogni più emergenti da parte del cittadino ha esposto invitando i propri cittadini a trovare insomma propri modi anche al di là insomma ovviamente degli orari di apertura dei singoli sportelli per interagire con il comune stesso. Quindi è stata fatta un'indagine in diversi step per riuscire a capire quelli che erano i servizi più efficienti e anche naturalmente quelli che potevano essere i servizi più urgenti di cui i cittadini potevano aver bisogno. Tenendo presente quello che è lo scenario del nuovo comune di Treville, il sindaco Paolo Forno prima presentava naturalmente un contesto di fusione e anche il comune di Treville è esito di un contesto di fusione dove si ha un'attuale frazione che era un comune fino a poco tempo fa distante misurata insomma con l'auto a 35 minuti di distanza rispetto a quella che è la nuova sede evidentemente del comune. Questo costringe naturalmente i cittadini a spostarsi e a fare un bel po' di strada. Tanta strada probabilmente che neanche nel comune di Trento insomma non si riesce a fare tutto sommato. Tenendo conto i cittadini sono tutto sommato abbastanza pochi ma tenendo presente di queste distanze i servizi online evidentemente acquistano valore e diventano ovviamente uno strumento prezioso per cercare di far risparmiare tempo e risorse parlando anche di non solo cittadini generali ma anche di professionisti insomma che devono poi muoversi con tutta una serie di documenti. Quello che abbiamo fatto quindi è stato individuare un metodo che potesse per un attimo farci dimenticare la complessità in termini di gestione delle pratiche all'interno del comune e abbiamo fatto in questo senso insomma una piccola rivoluzione. Ci abbiamo messo tanto per citare la parola chiave insomma cittadino al centro usata poco fa focalizzarsi esattamente sui bisogni dell'utente. Quindi di chi da fuori non deve occuparsi di sapere quelli che sono gli orari non deve occuparsi di sapere quella che è la complessità burocratica in termini di gestione ma può semplicemente dire utilizzando i dispositivi che io ho in tasca o nel mio ufficio o a casa mia quindi il pc naturalmente ma anche magari il tablet ma anche magari lo smartphone cos'è che riesco a fare? Attualmente molto poco insomma quando siamo partiti guardando il sito del comune c'era una serie di moduli anche ordinati insomma comunque di moduli pdf che potevano essere scaricati facilmente compilati al pc a quel punto stampati portati in comune li firmati e naturalmente nella migliore delle ipotesi la procedura si concludeva a quel punto nella peggiore delle ipotesi servivano una serie di scambi insomma di interazioni costanti con il comune. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato semplicemente quello di osservare mettendoci a disposizione insomma del primo comune sperimentatore quelli che erano i bisogni più impellenti. E' ben individuato l'iscrizione all'asilo Lido per esempio così come nel contesto di Treville importantissimo i sistemi di autolettura che potessero dar più fiducia al cittadino in termini di lettura del contatore autonoma. Ci sono tantissime seconde case quindi potete immaginare la scommodità dell'operatore ogni volta che deve trovare qualcuno dall'altra parte che gli apre la porta per accedere oppure iscrizione alle liste elettorali o occupazione di suolo pubblico per esempio per tornare al tema delle associazioni. Naturalmente anche i certificati anagrafici risultavano molto interessanti insomma come tipo di modulistica insomma da semplificare fino a un progetto di cui non parlo adesso ovviamente perché avremo abbondantemente tempo per farlo dopo che è legato alle pratiche della scia online. Naturalmente si ponevano alcuni problemi, primo tra tutti riconoscimento del cittadino quindi in questo caso una volta che risco ad essere molto chiaro su quello che è il servizio erogato ho bisogno di identificare il cittadino. In questo caso è stato piuttosto semplice grazie alla collaborazione con Informatica Trentina riuscire a riconoscerlo automaticamente perché? Perché da tempo la provincia ha distribuito grazie anche all'apporto dei comuni uno strumento che è la carta provinciale dei servizi ovvero la tessera sanitaria con cui con un'abilitazione io posso accedere, è uno strumentino abbastanza complesso accedere a questo servizio. Ho un altro strumento oggi che posso utilizzare che è quello di speed, quindi all'interno di speed io posso scegliere insomma come entrare quelle che sono le modalità di accesso e avere come elemento essenziale la sicurezza che chi sta arrivando dall'altra parte è effettivamente quel cittadino. Da lì in poi possiamo usare una serie di semplificazioni anche normative che ci permettono di aprire una valanga di possibilità, quindi la prima naturalmente è quella che il cittadino non serve più che si presenti in comune ma può compilarmi dei dati e tutto quello che fa all'interno della nostra piattaforma la posso considerare sostanzialmente assimilabile al fatto che lui si presenti, lo sportello, mi lasci una modulistica, presenti la sua carta d'identità, insomma un documento di riconoscimento e applichi una firma. E questo siamo riusciti a farlo già per un numero molto significativo insomma di servizi. E poi su questo avrai bisogno di accedere, quindi la seconda parte naturalmente è quella più interessante perché io posso, e ti lascio Walter, far entrare il cittadino, fargli migliorare costantemente la sua profilazione e quindi più servizi utilizza, più mi lascia dei dati e più io posso semplificargli il percorso di compilazione costante diciamo di questi nuovi moduli. Allora direi di fare così, intanto che Gabriele poi ci mostrerà, per esempio io penso che quello più interessante sia quello dell'asilo nido, cioè perché lì si capisce veramente l'utilità di una piattaforma di questo tipo. La prossima esperienza che abbiamo il piacere di mostrarvi è un'esperienza che ha visto come comune pilota il comune di Vallelaghi, altro comune nato recentemente da un processo di fusione. Questo applicativo che va sotto il nome di Progetto Peo e che ha a che fare con la presentazione online delle pratiche edilizie è forse invece, come San Giorcivico ha detto prima per altri aspetti, l'esperienza che più di altre può testimoniare la stretta sinergia che noi abbiamo a livello di sistema. Tutto ciò che facciamo lo facciamo evidentemente in stretto raccordo con la provincia autonoma di Trento. Questo progetto è un progetto pilota che a differenza di altri, dove è il consorzio dei comuni che ha messo le risorse necessarie per creare il prototipo, questo progetto è nato da una collaborazione con l'assessorato all'urbanistica della provincia autonoma di Trento, in particolare con l'assessore Carlo Daldos che visto quello che stavamo facendo, in particolare per quanto riguarda anche la stanza del cittadino, ha cercato di favorire, di mettere a sistema due cose che esistevano e che erano di fatto diffusissime sul territorio. Abbiamo qua Silvano Tononi che è il responsabile di un'azienda che fornisce in oltre 120 comuni del Trentino un'applicazione per gestire l'ufficio tecnico, quindi sono in tutti i 176 comuni, 120 li ha lui, quindi partendo non si poteva che partire evitando per una volta le disgrazie che derivano da procedure che tendono a inabissare tutto. Siamo partiti con lui perché ne aveva 120, siamo partiti da Francescotto che ne aveva insieme al Consorzio dei Comuni oltre 150 e quindi abbiamo creato un prodotto che finanziato dalla provincia autonoma di Trento oggi consentirà, non appena chiusa la fase di ridefinizione della modulistica, mi risulta che andrà in giunta provinciale venerdì prossimo e quindi dalla settimana dopo noi saremo in grado di caricare la nuova modulistica che ricordo in Trentino è univoca, uniforme per tutti i comuni, ci consentirà di portare la cosa che vedete oggi in tutti i comuni trentini che hanno il prodotto di Tononi e il prodotto del Consorzio dei Comuni a costo zero e lo ribadisco a costo zero, cosa significa? Significa che in modo trasparente ve lo dico perché quello che vedrete è costato 40.000 euro, non 400, 40.000 euro e potrà essere dato a tutti i comuni trentini con un semplice canone di manutenzione che non vi dico quant'è ma si parla di alcune centinaia di euro all'anno, con un semplice e gratuito perché me lo confermate voi costo di implementazione nella piattaforma Comunweb. Quindi io ringrazio veramente il sindaco Bressan perché si è cimentato in un'iniziativa pilota che era molto più complessa delle altre, effettivamente molto più complessa anche perché lui aveva da risolvere i problemi di un comune fuso neonato e quindi penso che si sono organizzati per darci una presentazione un po' a più voci e quindi io passo la parola al sindaco Bressan e poi a Simano. Sì, grazie Walter per la presentazione e buonasera a tutti. Chiaramente che noi siamo in comune fuso, praticamente da tre comuni e chiaramente questo progetto va di pari passo degli altri due per essere più vicini ai cittadini ma anche nel nostro caso ai tecnici. Io farò una piccola relazione per poi passare tecnicamente a Tononi, il quale ci spiegherà come in pratica questo progetto viene eseguito. Allora, il progetto PEO, ovvero Pratiche Edilizie Online, è un sistema che permette di inviare le pratiche in modalità digitale garantendo al cittadino la trasparenza del dialogo tra professionisti, pubblica amministrazione e cittadini. Il progetto è stato commissionato in via sperimentale dal Consorzio dei Comuni, consente la gestione delle pratiche edilizia, dalla scia al permesso di costruire, alla comunicazione ed inizio lavori e tutto quello che completa l'iter di una pratica edilizia. Informa questo completamente informatizzata attraverso tecnologia web. Il nuovo servizio online è in grado di sostituire in forma integrale il tradizionale approccio seguito dalla maggior parte dei comuni basato su documenti cartacei e su attività di sportello fisico. Praticamente la presenza sempre di un dipendente all'interno del comune che dà queste informazioni. Il processo di dematerializzazione dei documenti e dei procedimenti amministrativi è uno dei principali temi del codice dell'amministrazione digitale ed è una delle azioni più significative per la riduzione della spesa pubblica in termini di risparmio diretto e indiretti. L'attività oggetto di automazione prevede una forte interazione tra i tecnici comunali, progettisti e privati cittadini per lo scambio di documenti e la verifica dello stato di avanzamento delle pratiche proposte. Praticamente un iter molto libero e molto versato. insomma diciamo così. Ogni anno centinaia di pratiche sono sottoposte ai comuni oltre alla richiesta di informazioni sulla legislazione anche sulla normativa del settore che è in costante evoluzione e da qui è nata anche l'idea appunto attraverso il portale Comun Web di informatizzare il servizio per l'edilizia. Il servizio PEO nell'ambito del portale Comun Web vuole costituire un punto di riferimento con cui rivolgersi per l'avvio progetturale delle istanze edilizie e per seguirne le frasi istruttorie e questa è veramente una fase di trasparenza massima. I vantaggi per il cittadino si possono riassumere in questi semplici punti. Ora, primo la semplificazione e la velocizzazione dell'idea progettuale. Due, il controllo in tempo reale dell'informazione relative alla propria pratica. Terzo, la riduzione della fisicità del rapporto con le amministrazioni con la possibilità di avviare un procedimento autorizzativo di consultare lo stato di avanzamento delle pratiche, questo non è da poco, di verificare il rispetto di tempi progetturali direttamente dall'ufficio o da casa. Questo è un altro aspetto molto positivo, senza dover tutte le volte muoversi e andare agli uffici comunali come nel nostro caso un comune fuso, chiaramente come si diceva anche chi mi ha preceduto, la distanza è veramente tanta, 10-12 km. Dopo un quarto è la possibilità per i professionisti di consultare e stampare i dati direttamente. Chiaramente questo è un miglioramento della comunicazione diretta e ripeto sempre della trasparenza, questo è sempre un fatto molto molto positivo. I vantaggi invece per l'amministrazione sono i seguenti. La progressiva riduzione di operazioni manuali, quale la trasgressione di dati e il confronto di informazioni tra sistemi informativi diversi o tra supporti diversi con consideribile riduzione del margine di errore, la disponibilità di informazioni aggiornate in tempo reale con l'aumento della qualità e della performance dei servizi, l'abbattimento di tempi di lavoro dedicato al front office dello sportello fisico e dopo c'è anche l'occasione per rivedere la propria modulistica in un'ottica di semplificazione amministrativa. Una volta preparati i moduli possono essere utilizzati anche da altri comuni come diceva prima Walter, consentendo significative economie di scale sui costi di avvio del progetto e di successivo adeguamento normativo. Compressione dunque possiamo dire che abbiamo un risparmio di tempi, di risorse e di gestione delle pratiche. A questo punto passo la parola a Silvano in modo che tecnicamente ci spiegherà come funziona questo progetto. Grazie. Bene, grazie sindaco. Buongiorno a tutti. La presentazione abbiamo deciso di non farla tecnica nel senso che in sala è difficile poi trovare tecnici e pertanto non vorremmo tediarvi con disquisizioni troppo particolari che poi perdono il senso del significato di quello che abbiamo fatto. Io volevo riprendere a grandi linee il progetto che come diceva il sindaco è stato fatto in forma sperimentale col comune della Val dei Laghi e fondamentalmente serve per presentare tutti gli atti autorizzativi per le pratiche edilizie. Il servizio online, tenete presente che è in forma sperimentale, avremo l'autorizzazione a poterlo pubblicare in forma definitiva, speriamo alla fine del mese, dovrebbe andare veramente questioni di giorni e poi sarà la possibilità realmente di poter fare questo tipo di servizio ai cittadini, quanto meno del tuo comune, caro Gianni. Allora, il senso locale lo troviamo col fatto che, come diceva Walter, abbiamo Commonweb che ha oltre 170 installazioni comunali, abbiamo Giscon che ne ha 120 sul territorio trentino, abbiamo questo sistema che è il protocollo informatico, il P3, che ci sono ormai 160 comuni trentini che hanno questo sistema installato e poi abbiamo Informatica Trentina con cui abbiamo tutti sul server, per cui sul cloud è depositato da loro, di tutti questi sistemi. Oggi il progetto PEO, come diceva Walter, può essere replicato sul 75% della copertura del territorio trentino, per cui in forma gratuita direi che quanto meno è stato un bel investimento se non altro in termini economici. L'obiettivo, come ripeto, era la gestione e la compilazione di questi scia del permesso di costruire, della comunicazione di inizio lavori asseverata o meno, ma la parte fondamentale è la restituzione sul portale del comune, dove anche il cittadino può andare a vedere il tutto. Ripeto fondamentalmente i punti che diceva il sindaco, per cui semplificazione, controllo del tempo, riduzione della fisicità, la possibilità per i professionisti di consultare e stampare lo stato e la pratica e naturalmente il miglioramento della comunicazione. I vantaggi per l'amministrazione, l'avete sentito, sono la progressiva riduzione delle operazioni manuali, qui abbiamo integrato la possibilità di poter inviare direttamente della documentazione in formato PDF e direttamente importarla nei sistemi che oggi il comune utilizza per far fronte a tutte le pratiche edilizie. Per cui disponibilità e informazioni aggiornate, l'abbattimento naturalmente ai tempi di lavoro e trasparenza dell'amministrazione. I servizi interattivi, tenete presente, che hanno un grande vantaggio, nel senso che vengono creati questi moduli in PDF, compilati, firmati digitalmente o con la CADES o la PADES, le due firme digitali che oggi sono in voga ed inviate tramite il portale che è gestito da Common Web ormai su tutti i comuni. Questa è più o meno la falsa riga, non abbiamo un puntatore, era per farvi vedere fondamentalmente in alto sulla sinistra trovate l'interfaccia che abbiamo verso l'amministrazione o il professionista, per cui geometra, ingegnere, architetto, che ha il compito e solo l'autorità per poter presentare alcune pratiche o eventualmente anche lo stesso cittadino. Abbiamo un controllo tramite un cruscotto per realmente il cittadino, che adesso vi faremo vedere con qualche slide, e successivamente in automatico avremo il posizionamento in Giscom e l'integrazione totale con P3 in maniera automatica, tramite come organo di sistema. Per cui la prima cosa da fare per il professionista sono scaricare questi documenti dal sito del Consorzio dei Comuni, compilarle digitalmente, allegare tavole e non tavole, allegati, relazioni, carte, entità e quant'altro, metterle tutte in un contenitore e autentificarsi verso il portale, quello che avete visto prima da Gabriele, sia per la possibilità di entrare con la CPS o con tramite SPIT. Fatta l'autentificazione di questo, inizia il processo, per cui i documenti sono stati creati, firmati digitalmente in PDF, e qui abbiamo fatto una cosa molto veloce, anche perché, come ripeto, staremo diversi minuti a spiegarvi le parti tecniche, quello che vorremmo trasmettere è l'iter che la pratica segue, per cui la possibilità di poter inserire tutti i vari moduli, le varie domande, sono tutte guidate da ognuna, questa per darvi un esempio è una scia, ma ha il permesso di costruire naturalmente in maniera diversa, le Cielo ancora in maniera diversa, ma quello che vorremmo trasferirvi come proprio concetto è il fatto che siete seguiti passo a passo dal portale. Come vedete, i classiche tappe della metropolitana stanno diventando sempre più verdi fino in fondo, fatto questo, la pratica si chiude con l'invio tramite il portale al sistema, sul basso in destra trovate l'iter della pratica, dove abbiamo la possibilità di far sì che questa sia automaticamente protocollata e inviata al sistema. L'integrazione in questo sistema è Giscom, che oggi naturalmente non vedremo, ma è solo per darvi un'idea che vi è questo sistema installato ormai in oltre 120 amministrazioni trentine, per tutta la gestione della pratica in maniera automatica, dopo validazione del tecnico. Nella stanza del cittadino che Gabriele vi ha fatto vedere prima, il cittadino può entrare con i classici sistemi, per cui tablet piuttosto che smartphone, e di identificare esattamente quali siano le proprie pratiche, sono state inviate, accettate, la data che è stata presentata, per cui grande trasparenza dell'amministrazione verso la popolazione, ma soprattutto verso i tecnici con cui lavorano l'amministrazione. Concludo effettivamente con questo progetto per due parole sull'integrazione. È il primo sistema che integra fonti diverse, realmente molto importanti. Parliamo del portale, per cui del common web, parliamo di P3, che è un sistema estremamente complesso del protocollo e dell'archiviazione di tutte le pratiche. Abbiamo questo software gestionale e soprattutto la pratica con il discorso del cittadino. Bene, io chiudo con questo e vi ringrazio dell'attenzione. Se avete delle domande, naturalmente. Grazie. Basta così, no? Evidentemente tutte le cose che vedete oggi, a partire da quest'ultima, che per una questione evidentemente anche estetica, non mettiamo in produzione presso il comune di Valle dei Laghi fino a quando la provincia autonoma di Trento non avrà approvato e è in previsione per venerdì pomeriggio, per venerdì mattina prossimo, come dicevo, la modulistica nuova. Quindi tutto il resto è già visibile, basta che voi entriate in qualunque comune o nel sito del Consorzio dei Comuni e trovate evidentemente tutto quello che abbiamo mostrato e potete entrare nei dettagli. Magari prima di passare la parola poi all'assessore Caproni per un'altra esperienza che riguarda i chatbot e sempre abbinati a Open Agenda, magari continuiamo e chiudiamo la questione della stanza del cittadino. Perfetto. Quindi, riprendiamo da questo step. In questo step io sono autenticato diciamo con un utente demo insomma nell'ambiente di prova ma il sistema funziona veramente ed è già in produzione su alcuni comuni. Quindi Treville, quindi Comune di Rovereto. Io adesso posso evidentemente iscrivere mio figlio a scuola e posso seguire passo passo una serie di step naturalmente che cambiano a seconda del servizio. In questo caso molto semplicemente seleziono la struttura di riferimento accetto evidentemente i termini e le condizioni previste dal lente prima di procedere e compilo tutta una serie di informazioni che fino a poco prima erano naturalmente presentate attraverso formati PDF. In questo caso non soltanto siamo in grado di utilizzare un'interfaccia estremamente comoda, unica, se ci si accede soltanto via browser, non serve installare alcun software ma ci si può accedere anche con dispositivi diversi. Quindi attraverso smartphone naturalmente tutto quanto perfettamente responsive e PC ovviamente dicevamo. Altra cosa che non abbiamo detto sono dei totem. Quindi ci può essere naturalmente presso lente e anche un totem che vi ha messo a disposizione per facilitare soprattutto l'accesso, il login da parte di un cittadino che non ha grande confidenza con smart card. Questo abbiamo visto insomma nel corso dell'esperienza è un grosso problema in effetti perché se io a distanza non riconosco il cittadino purtroppo insomma non riesco neanche a farlo accedere e quindi apprezzare tutta una serie di servizi. In ogni caso altri step fondamentali sono quello della convalidazione dei miei dati evidentemente dati che risiedono all'interno di un mio profilo che posso anche andare ad aggiornare anche se consiglio che la via maestra è naturalmente quella di richiedere una modifica a livello di dati che ho nella tessera sanitaria per esempio o su speed. Quindi posso procedere e qui naturalmente compilo tutti quanti i dati legati al nome naturalmente di mio figlio specifico luogo data di nascita eccetera eccetera ci sono dei controlli di base che servono non per appesantire evidentemente insomma l'iter ma per prevenire tutta una serie di errori e aggiungere eventualmente dei componenti del mio nucleo familiare questo è il primo step lo anticipavo un attimo fa che ci permette alcune semplificazioni cioè abbiamo deciso di non integrare tutto di non rendere la vita neanche perfetta a volte un po' scomoda anche ai dipendenti comunali e questo ci serve naturalmente per spingere molto di più e molto più in fretta verso il vero obiettivo cioè semplificare la vita al cittadino cioè non mi serve sistemare tutto ciò che riguarda l'interno per adesso questa qui è stata la filosofia che insomma a mio avviso Vincente che ha deciso di abbracciare non noi ma il consorzio dei comuni in accordo evidentemente con gli enti ci siamo trovati di fronte a una serie di ostacoli non soltanto di natura tecnica quando si vanno a chiedere i dati ai comuni e non per indisponibilità dei comuni anzi quindi di fronte a questo scenario abbiamo deciso sostanzialmente di prendere la via più efficace per rispondere anche in termini di open government a chi si presenta insomma davanti a queste applicazioni cioè il cittadino o come abbiamo visto poco fa insomma il professionista naturalmente qui mi viene richiesto un certificato ICEF che mi serve naturalmente per tutta una serie di validazioni e a questo punto io ho inserito i miei dati chiaramente sono di prova e non creiamo danni insomma al comune di Treville prima di decidere che effettivamente sono sicuro per mandare tutti i dati in comune a questo punto scattano dei meccanismi molto interessanti li abbiamo visti prima citati velocemente da Silvano Tononi l'applicazione è esattamente la stessa stiamo cercando di distribuire utilizzando il più possibile proprio per l'idea della diffusione anche di strumenti omogenei rispondenti a delle linee guida che non abbiamo deciso noi evidentemente ma tra gli strumenti interessanti che abbiamo integrato c'è naturalmente il protocollo cioè il protocollo è lo strumento ufficiale che mi dice mi dà conferma del fatto che quella istanza è stata effettivamente consegnata in comune e io ricevo anche una ottengo anche una ricevuta e a quel punto grazie alle normative che abbiamo è come se io avessi consegnato in comune un modulo firmato mi fossi presentato avessi consegnato anche un documento di identità e avessi ottenuto anche di ritorno la ricevuta insomma di avvenuta consegna e tra le cose utili è che il protocollo funziona in maniera totalmente automatica quindi non ho bisogno che ci sia un nomino dietro insomma che faccia ok tempo un paio di minuti la protocollazione viene effettuata e io ricevo come cittadino anche una ricevuta che attesta che lato mio insomma sono assolutamente a posto e in questa in questo documento che viene compilato in maniera totalmente digitale quindi è effettivamente un pdf ma generiamo un pdf per praticità di stampa io ho una serie di codici che sono legati al sistema di autenticazione quindi anche il pdf sa come sono entrato quindi che sono stato io sostanzialmente ad avere accesso allo strumento ma eroghiamo anche un link attraverso questo link questa qui è la cosa interessante su cui stiamo riflettendo anche in termini di diffusione maggiore dei servizi e delle potenzialità che possono avere chiunque può vedere che questo documento esce da una piattaforma certificata quindi se io porto questo documento a un terzo soggetto questo terzo soggetto verifica la validità del mio documento e qui lo intuiamo sto aspettando la protocollazione quando viene fatta la protocollazione ho un iter che automaticamente può andare avanti in base alla complessità della pratica questo iter ovviamente lo vedo io come cittadino lo vede l'ente che deve evidentemente gestire la pratica rimane però un dialogo estremamente chiaro e tracciato di tutti quanti quelli che sono i processi nel caso dell'iscrizione all'asilo nido tutto sommato in tre processi l'iter si conclude molto semplice accetto che tuo figlio insomma no lato comune venga iscritto finita lì fondamentalmente salvo una serie di pagamenti eccetera che dovrò fare nel corso del tempo ma nel caso per esempio della scia lì ho un iter che è estremamente più complesso e quindi questo iter di pratica continua ad andare avanti rispetto a questo naturalmente diventa particolarmente interessante le possibilità che si aprono in termini di scenario cioè io posso riconoscere utenti che entrano da una parte e iniziare a condividere informazioni uno dei dettagli che non è emerso così chiaramente nel caso della scia è il fatto che io posso ovviamente come professionista in questo caso accedere inserire tutti quanti i dati che riguardano la pratica del cittadino che mi ha delegato ma anche specificare il codice fiscale del cittadino stesso quindi se dall'altra parte il cittadino vuole accedere vede quantomeno anche in termini di iter quello che è lo scambio di informazioni tra ente e professionista questo aiuta naturalmente moltissimo a chiarire il dialogo anche verso il cittadino stesso quindi potete immaginare che è vero che esiste una certa complessità per quel che riguarda molte pratiche della pubblica amministrazione e che queste vengono demandate ai professionisti ma il cittadino per la prima volta può sapere a distanza quindi dopo le 8 di sera quando gli uffici sono chiusi chi la sta raccontando correttamente tra cittadino stesso e ente molto spesso gli enti abbiamo scoperto sono assolutamente efficienti e non hanno nulla da nascondere quindi il colpevole sta da un'altra parte e molto sinteticamente quindi io posso avere un mio archivio dove progressivamente vado a compilare i miei allegati possono essere l'ICEF che rientra in gioco in tantissime circostanze posso andare a perfezionare il mio profilo ecco questo sarà un tema molto interessante tra un mese circa perché con il comune di Roveretto che adesso non vedo ma tra poco immagino che arriverà con la stanza del cittadino iniziamo a inviare documenti e informazioni vedi immis al cittadino stesso se io ho evidentemente un account valido in termini quantomeno di riferimenti email cellulare eccetera immaginate che tipo di possibilità si aprono perché io posso inviare delle notifiche al cittadino e questo con un link entra nella piattaforma autenticandosi con speed o testa sanitaria e stiamo ovviamente alimentando costantemente la lista dei servizi abilitati e la logica del riuso anche in questo caso è assolutamente valorizzata insomma per quel che vediamo non soltanto grazie ai protocolli che costantemente insomma vengono sottoscritti esiste anche un nuovo progetto insomma di riuso molto recente che consentirà che questo tipo di applicazione che peraltro abbiamo rilasciato come consorgente aperto quindi è scaricabile e in ottica di facilitazione qualsiasi altra azienda o qualsiasi pubblica amministrazione la può scaricare installare e perfezionare perché il codice è aperto ma anche in termini di accompagnamento al riuso quindi sarà un'applicazione che a breve avranno a disposizione anche i comuni di Trieste e di Livorno per citarne alcuno Allora abbiamo abbiamo chiuso chiudiamo questa parte sulla stanza del cittadino che si ricollega a un altro dei temi adesso non voglio farla lunga ma a un altro dei temi che ieri il commissario Piacentini ha ribadito è il termine di scalabilità cosa significa? Significa che tutto ciò che come consorzio dei comuni grazie anche alla collaborazione fattiva dei nostri sindaci dei nostri amministratori portiamo avanti evidentemente non possiamo farlo perché vada bene a un comune oggi pur avendo noi ridotto di 50 unità nel giro di tre anni il numero dei comuni trentini che sono passati da 223 a 176 dobbiamo ricordare che a fronte di una media nazionale di comuni sotto i 5.000 abitanti che si attesta intorno al 72% in Trentino nonostante questa grande razionalizzazione che è stata fatta in termini di riforma istituzionale sono ancora più del 90% i comuni che sono sotto i 5.000 abitanti quindi prodotti come questi partono da un presupposto in cui noi ormai come consorzio dei comuni crediamo da sempre e cioè esistono comuni grandi comuni medi comuni piccoli ma non esistono cittadini grandi cittadini medi cittadini piccoli oggi in termine di crescita digitale un cittadino che abita in una valle periferica del Trentino e un cittadino che abita qui a Trento nel momento in cui si rivolge a tutto ciò che non è pubblica amministrazione ha le stesse modalità di accesso i stessi livelli di accesso dobbiamo essere obiettivi e dire che quando il cittadino poi si rapporta con la pubblica amministrazione lo dico da persona che da più di 20 anni da 25 anni lavora in questo settore non dico che torna al paleolitico ma insomma fa un salto molto grande all'indietro quindi ecco questo prodotto è stato creato come tutti quelli che creiamo perché possono andare bene dalla città di Trento che utilizza diversi prodotti che sono nati all'interno del consorzio dei comuni al più piccolo comune Trentino apriamo un'altra parentesi e anche qui altra parola chiave ecco il sistema citata ieri sempre da Piacentini e cioè cosa vuol dire vuol dire abbiamo il consorzio dei comuni abbiamo la provincia autonoma di Trento abbiamo la società di sistema abbiamo gli enti di ricerca abbiamo i cittadini abbiamo i dipendenti comunali i sindaci segretari e quindi abbiamo già in natura un ecosistema molto molto consistente la community che oggi utilizza come un web si attesta intorno ai 1200 redattori ci sono 1200 dipendenti comunali che ogni giorno inseriscono informazioni secondo criteri univoci che poi vengono anche monitorati pilotati anche se volete dal consorzio dei comuni ma l'altra ma la questione vera per rendere questo ecosistema veramente diciamo reale concreto ci sono le imprese allora l'idea che abbiamo condiviso ormai da tempo e che stiamo mettendo in pratica è un po' questa esiste come un web esiste questa infrastruttura esistono un sacco di aziende esiste qualche azienda che qualche impresa che su questa piattaforma ci sta investendo sta pensando di investire e ci ha investito ed è l'esempio del comune di Mori abbiamo con noi l'assessore Patrizia Caproni che dopo ALA ha portato open agenda all'interno del comune di Mori e qui c'è stato un incrocio con un'impresa che si occupa di una cosa che a me sinceramente era abbastanza oscura premetto che io non sono un tecnico quindi già ne capisco poco ma di questa cosa ne capivo ancora meno che sono i famosi chatbot ho capito solo recentemente cosa vogliono dire e ho capito soprattutto una cosa vedendoli poi all'Opera Mori e poi adesso ci spiegheranno cosa avete fatto come l'obiettivo di pubblicizzare gli eventi può essere ulteriormente valorizzato a costo zero e senza grande fatica in un modo eccezionale quindi se Patrizia vuoi darci un po' la tua esperienza grazie sì Valentina mi aiuterà dal punto di vista tecnico quindi intanto che lei collega poi il computer e l'esperienza parte da quello che ha presentato prima il sindaco di altri grazie a tutti